Il piano di Pianza è questo il 39esimo piano e noi abbiamo deciso per regolamento di poterla concedere anche in affitto per eventi di presentazione di prodotti, alcune aziende lombarde e internazionali hanno scelto di presentare i loro prodotti. Qui abbiamo ospitato il set di due film, The International e Benvenuti al Nord, abbiamo ospitato la partenza del Giro di Lombardia, una tappa del Giro d'Italia, l'abbiamo concesso in uso anche alla Rai, come avviene in tutto il mondo. Sono operazioni di marketing, noi attraverso la Film Commission Lombarda stiamo portando sul nostro territorio degli eventi che portano lavoro e portano immagini a Milano e alla regione. Niente di strano, polemiche inutili? No, polemiche piccine che dimostrano la piccolezza d'animo o a volte l'incompetenza totale di questi signori che non sanno che in tutto il mondo i luoghi istituzionali si devono aprire alla fruizione del pubblico e devono anche essere disponibili per eventi di natura commerciale. Noi lo apriamo gratuitamente al pubblico, visto che vengono migliaia e migliaia di persone, ovviamente in maniera gratuita, ma abbiamo già affittato un locale o un altro o la piazza per eventi di natura commerciale. Buffer a Lega, se Bossi dove c'è lasciare la guida della Lega? Ma non ci credo affatto, credo minimamente che Bossi sia coinvolto, dopodiché è chiaro che le indagini andranno avanti e mi auguro che si arrivi ad una verità, ho già detto che il problema vero è quello di andare ad una regolamentazione diversa del finanziamento ai partiti. Sono cifre troppo alte quelle che vengono date ai partiti e senza nessun controllo o con pochissimi controlli. Questo è il vero errore da correggere. Grazie.